Con l'intervento di Sua Eccellenza Monsignor Pasquale Cascio, si è conclusa ad Agropoli la tre giorni del Festival della Teologia Incontri, dedicata alla giustizia. La parola di Dio del Salmo 85, in cui giustizia e pace si baceranno, completa un itinerario di riflessione che ha coinvolto tre diocesi, numerosi ospiti e migliaia di spettatori attraverso le dirette tv di Cilento Channel e Social. L'iniziativa promossa dall'azione cattolica con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo di Salerno ha il patrocinio della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e della Regione Campania. Nel corso della serata il momento musicale ha visto la partecipazione del cantante Dino Zero, mentre l'ultima testimonianza del ciclo di incontri, dopo la partecipazione dei magistrati Consuelo Ascolese e Katia Cardillo, ha visto l'avvocato Felicità Rocco confrontarsi con il Magistero di Papa Francesco. Il percorso della rassegna continua nelle prossime settimane con la mostra itinerante Ecce Homo, il Vangelo nelle opere di Andrea Guida, che sarà visitabile fino al 15 agosto a Caggiano, presso la chiesa di Santa Caterina, e dal 16 al 31 agosto a Teggiano, presso il Chiostro San Francesco. Al termine della serata, alla presenza del direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo di Salerno, Don Bruno Lancuba, è stato annunciato anche il tema della prossima edizione, che verterà sulla fraternità. Resenote anche le date, il 25 luglio 2022, la cerimonia di conferimento del premio incontri, e il 3, il 4 e il 5 agosto, gli appuntamenti in piazza nelle tre diocesi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.